Inaugurato ad Andria il forno a legna di comunità realizzato dalla cooperativa sociale Sant'Agostino. Si tratta di un'altra opera segno cofinanziata dalla Caritas di Andria che si pone in continuità con il progetto Green Life sul tema di nuovi stili di vita. Un gesto che sulle orme della laudatosi di Papa Francesco sottolinea l'importanza di opere concrete nella diversificazione dei modelli di produzione e consumo del cibo, nell'arrivalorizzazione dei mercati locali, nel recupero dell'attività agricola. Le interviste. Don Vito, un'opera concreta di quella misericordia di cui parla Papa Francesco. Sì, sicuramente quello che andiamo oggi a presentare come comunità, alla stessa comunità andriese, a tutta la diocesi, è un segno di carità, un segno di misericordia che fa parte di tutto un progetto che ormai da anni la nostra cooperativa con la Caritas Diocesana è impegnata nel portare avanti, nel promuovere e realizzare il progetto Green Life. Ecco, questo forno di comunità che tiene insieme due realtà. La prima, il forno, che nei tempi passati era luogo di aggregazione, ma anche luogo dove trovava manifestazione il lavoro, il duro lavoro dell'uomo nella campagna. Lì veniva gratificato con il pane che invece portava sostegno alla vita. luogo di aggregazione, ecco perché abbiamo voluto non solo qui promuovere il nostro lavoro nei campi, in quei campi sottratti alla criminalità, alla mafia, campi coltivati dai giovani, dai ragazzi. Quindi ciò che qui andiamo a proporre, sono tutti i prodotti che vengono da questi terreni, così il grano, o tutto quanto i ragazzi riescono nel tempo a realizzare con il proprio lavoro. Un lavoro che vuole proporre anche uno stile ecosostenibile. E poi l'altro aspetto, comunità, perché abbiamo tutti quanti bisogno di rapporti fraterni migliori, incentrati uno sulla cura dell'altro. Ecco, pensare alla cura del creato, a un modo più onesto, più equo di vivere e di lavorare, è un primo segno sicuro per poter costruire fraternità. Ma anche perché in questo luogo noi pensiamo di voler aggregare, di poter aggregare attorno a principi per l'uomo, principi che Gesù ci ha illuminato con il dono del Vangelo. E quindi qui è anche luogo dove possiamo incontrarci per parlare, non solo per acquistare qualcosa, o per vendere qualcosa, ma per parlare, per discutere, per confrontarci, per crescere, per uno stile di vita nuovo. Ecco quello che oggi inauguriamo, non un negozio, un panificio o quant'altro, un forno di comunità. Possiamo definire questo un nuovo metodo di evangelizzazione? L'evangelizzazione delle opere, attraverso queste realtà, la gente vede, si fa domande e capisce che la carità di Cristo può portare anche a scelte di questo tipo, per il bene certamente, non sono scelte di carattere economico, il profitto per il profitto, ma sono scelte di carattere sociale, il che è molto diverso. Don Mimmo, si tratta di un'opera che è nata e che si è sviluppata anche grazie al sostegno e al supporto della Caritas? Sì, certo, sicuramente c'è una sinergia in atto, quella della parrocchia, all'interno della quale è nata questa esperienza della cooperativa, che poi ha incrociato il percorso della Caritas. E in modo particolare due dei progetti della Caritas di Ocesano, un progetto di microcredito attraverso il progetto Barnabal, il presto della speranza, il progetto Policoro, che sono realtà e strumenti a servizio dei giovani perché possano dare seguito a una idea e quindi mettere su delle attività, delle microattività anche, e quella del panificio rientra tra le circa 50 attività che abbiamo promosso nella nostra diocesi, e poi un'attenzione particolare alla custodia del creato attraverso il progetto Green Life, che ha tra i punti proprio quello di un'attenzione al cibo, oltre a quella di un'attenzione allo spreco e ai rifiuti. Ecco allora questa sinergia poi viene a concretizzarsi attraverso una bella azione che mette insieme anche un'altra dimensione che la Caritas sta cercando di realizzare, cioè quella di creare relazioni, un forno come quello che si inaugura quest'oggi sicuramente diventa un luogo di socialità e su questo aspetto noi come Caritas stiamo scommettendo molto anche perché può venire fuori un'idea e un volto nuovo e diverso di comunità che sa farsi carico di quella che è un'attenzione verso i giovani, di un'attenzione verso la custodia del creato, di un'attenzione anche tra le generazioni, il passato, la tradizione, la cultura, insieme all'impegno e l'entusiasmo delle nuove generazioni per lasciare al futuro anche qualcosa di importante e che possa rimanere per sempre.